amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazioni autosportive oggi vi ripresentiamo un tipo di lavoro non tanto sulla macchina questa è una golf 7 r line 1.400 turbo benzina un tipo di lavoro un po particolare che ogni tanto alcuni clienti ci chiedono cioè parliamo di scarichi e ovviamente una delle richieste che ci vengono fatte più spesso è quello di avere un sound sportivo poi a livello di gradualità o di gradazione chiamiamolo così del sound abbiamo due alternative escludendo di fare scarichi sulle macchine diesel perché ovviamente non hanno un'efficacia e una sonorità adeguata quando si va a lavorare sulla macchina benzina abbiamo due opzioni o lavoriamo sulla linea di scarico cambiando una o più parti della linea quindi partiamo dal terminale centrale fino arrivare alla parte anteriore quindi con catalizzatore piuttosto che anteriore o se no l'alternativa è quella di lasciare tutta la linea stock e di montare prima del silenziatore centrale quindi bypassando in sostanza il silenziatore centrale e il silenziatore terminale un bypass con una valvola che appunto come si intende dal termine bypass va a saltare queste due parti che ovviamente vanno a chiudere molto suono in questa maniera qui con il tasto chiuso la macchina rimane perfettamente omologata quindi non è stato sostituito a nessuna parte è solo stato aggiunto un pezzo in più quindi a valvola chiusa la macchina è perfettamente omologata e dove è consentito aprendo la valvola adesso vi facciamo sentire chiaramente la differenza aprendo la valvola che l'è trattuata con un tasto che noi montiamo ovviamente la sonorità cambia radicalmente perché come se avessimo tutta la linea diretta con un tubo diretto sul centrale il terminale in sostanza adesso vi faccio sentire la differenza puntualizziamo il fatto che su questa macchina avevamo già precedentemente sostituito il terminale con un terminale sportivo omologato ragazzon quindi un pochino più di rumore la macchina lo fa però ripeto questo è sempre un rumore diciamo leggermente più sportivo di quello che è quello di serie ecco quindi come avete potuto sentire la differenza non è eccessiva perché ovviamente il bypass è stato messo per diciamo saltare terminale e centrale il resto diciamo nella parte a monte qui nella parte anteriore è rimasto esattamente stock quindi fa un rumore chiaramente più corposo ma non eccessivo perché ovviamente rimane sempre il catalizzatore e la turbina che ovviamente vanno a diciamo a abbassare quello che è la sonorità però rispetto a una linea di serie già così è un qualche cosa di decisamente più sportivo il tasto l'abbiamo posizionato in un punto nascosto dietro all'apparatia sinistra il cliente lo attiva quando vuole e quindi passa da un discorso di sound appena appena accentuato a un sound decisamente più sportivo utilizzandolo dove effettivamente lo ritiene opportuno io direi che anche per questo lavoro e per questa golf 7 è tutto vi invitiamo come al solito a contattarci telefonicamente in sede allo 0273 83175 a consultare il sito www.nomenagiri.it soprattutto nella parte archivi elaborazioni solo nella parte golf se cliccate mettete il marchio volkswagen e andate a verificare quante golf ci sono ce ne sono mi sembra più di 130 di 300 volkswagen che abbiamo inserito vi invitiamo a cliccare sulla campanella e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima